Le fiamme gialle del comando provinciale di Palermo e personale della Polizia Federale Brasiliana hanno dato corso, congiuntamente, in tele Brasile, a un'operazione antimafia su larga scala disposta alla Procura della Repubblica, di India di Palermo e dal secondo Tribunale Federale del Rio Grande do Norte. In particolare, l'autorità giudiziaria estera ha ordinato l'arresto di un imprenditore originario di Bagheria, da tempo trassalitosi a Natale, unitamente al sequestro di disponibilità finanziarie, per un valore di 50 milioni di euro, nonché dei beni mobili e immobili riconducibili a 17 soggetti tutti indagati e a 12 società operanti il settore immobiliare ed il ristorativo. Contestualmente, la DDA di Palermo ha delegato l'esecuzione di 21 perquisizioni sia in territorio nazionale, cioè in Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Toscana e Beneto, che all'estero, in Brasile e in Svizzera, prezzo abitazioni, sedi societarie e studi professionali. I reati ipotizzati sono concorsi esterni in associazione mafiosa, estorsione, riciclaggio e autoriciclaggio, trasferimento fraudolento di valori aggravati dalla finalità di aver agevolato importanti famiglie mafiose. Le attività di indagini complessivamente svolte hanno fatto emergere le tracce di consistenti investimenti di capitali di matrice mafiosa in iniziative imprenditoriali in società di diritto brasiliano, tutte abilmente schermate attraverso l'utilizzo di prestannome e l'interposizione di società di comodo. Il denaro, secondo la ricostruzione investigativa, sarebbe giunto a destinazione per il tramite di sofisticati meccanismi di riciclaggio, basati tra l'altro sull'impiego di plurimi conti di transito accessi presso istituti finanziari prevalentemente all'estero. Al vertice di questo sistema, uno dei più autorevoli uomini d'onore palermitani, dal 2018 reggente il mandamento mafioso di Pagliarelli, sino al suo arresto nell'aprile del 2021, il quale sin dal 2000 avrebbe stretto un'alleanza da affari con l'imprenditore bagherese. Tra gli affari più significativi, alcune operazioni nel settore della ristorazione, soprattutto l'avvio, attraverso le società del gruppo, di un piano di lottizzazione di vastissime aree edificabili a ridosso della costa nord orientale del Brasile, progettualità che si aggiunge ad alte numerose transazioni in campo immobiliare in grado di garantire profitti di eccezionale entità.